Vedo che ti stanno bene oggi i capelli Sono pochi Non dire così Ok non lo dico Ma lo penso Secondo te dovrei farmi crescere la barba io? Dovremmo fare un format dove tu Ti fai crescere i capelli e io me li taglio Ma a me fanno schifo i capelli Se me li faccio crescere Eh io ci sto male pelato Non è vero tu stai molto bello pelato Te l'ho già detto I miei ragazzi mi hanno detto che mi lascia Non è vero fammi ci parlare Lei dici che ama accarezzarmi i capelli A me era accarezzarti altro Non ti preoccupare Hai peli nell'altra parte del corpo? Sì Dove? Se posso chiedere ovviamente Un po' mi pesa rispondere a questa domanda Sono pieno di peli nel culo Anch'io Pensa che la mia ragazza mi chiama Fauno Sul telefono c'è ancora scritto Fauno Perché io ho i peli fino al sedere E poi ho tipo C'è presente come se avessi una striscia E non ho quasi più peli Pure io Pure io Come un Fauno Però Però più cose diciamo più siamo simili Solo che tu li hai rossi Sei miope? Sì E sei anche leggermente astigmatico? È normale Quanto ti manca di mio PM4? Ah no a me 4 insomma Due occhio 4? 4 insomma Due occhio mi manca Due per occhio No due gradi per ogni occhio che sommato fa 4 Ok Ah 2 2 Come 20 2 2 Come lo dici? Ho 4 insomma Insomma No 4 insieme si dice Ok 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 Sì Insomma No ma perché il termine somma L'utilizzo dall'addizione no? Le elementari E tu sei alto? 1,88 Quanto me? Luca E io non ci sto memando Secondo me c'è un filo rosso che ci lega E io ho guardato Your Name Che è un meme che ti sta molto molto a pennello E da quando ho guardato Your Name Ci siamo conosciuti Quindi il filo rosso che ci lega è quel film Non è possibile E noi abbiamo un sacco di punti in comune Perché probabilmente io ho visto la tua vita E tu hai visto la mia Luca Non sto scherzando Pensa che ci sia qualcosa di grosso dietro E l'abbiamo scoperto per caso Purissimo caso Io non posso parlare di questa cosa di Your Name però O perché ho seppellito il meme Ok Ma io l'ho visto due settimane fa Quando io l'ho seppellito È un caso? Porco due Luca No Io ti giuro ho fatto una live due settimane fa In cui lo dicevo Non è un caso Ma vuoi una luce migliore? Più soft? Tu mi fai sempre Aspetta Non la fai più alla luce? È proprio quello che ti avevo chiesto Giuppi Giuppi TV Sei Giuppi Giuppi TV Tu insulti la tua chat Io li chiamo Stelline Se uno mi insulta Allora lo insulto Io non ho mai insultato la mia chat A o è pericolosissimo I possedetti coglioni di merda No nemmeno io Mai Se lo faccio per me mare Ma mai una roba È un suicidio Ma poi cazzo Loro molto spesso Mi chiedono di insultarli O addirittura di Anche a me Alle fiere Ti prego Paolo insultami O tirami lo schiaffo Ti hanno mai chiesto alle fiere Tipo spezzami il ginocchio Perché ti devo chiedere di spezzarmi il ginocchio Ti chiedono mai di toccarti la barba Ti chiedono mai di toccarti la barba Ai baffi In fiera No Come se fossi Di toccarmi la pelata Eh vabbè perché tu hai la pelata Io ancora no Ma Siamo Molto simili Molto simili Però ci vedono come secondo me Tipo Non voglio usare il termine fantocci Pupazzi Non sanno che c'è una persona dietro No Non lo so Capito vogliono toccarti Vogliono Però Non In quel In quel tocco Delicato Ma quel tocco morboso Mi spiego C'è Uno è venuto lì Col telefono Così Così era Non lo sto prendendo in giro ragazzi Stavo solo dicendo com'era È venuto lì così Mangaka Fatti leccare la pelata Pronto lui a fare la storia No Ma non è che non la lecchi la pelata Ma perché Tu non hai idea di quanto sei fortunato Di avere i tuoi fan Perché questo qui Che ti ricordi è un caso Ma se vai a vedere Gli youtuber Quelli da un milione Tiktoker Questi qua Hanno solo fan Ragazzini E per lo più Non voglio flammare Però Essendo più piccoli E avendo un'idea Di idolo Molto L'idolo non è umano L'idolo è lì per loro Come dici tu Pupazzo Quindi non c'è una condizione Che c'è la privacy E rispetto Foto E te ne vai a fanculo Firma E te ne vai a fanculo Mentre i tuoi fan Io sono sicuro Che hanno anche Più o meno la sess'età Dei miei Dai 18 ai 30 anni Hanno molto Molto più rispetto Per te E ti vedono Sì come un idolo Una persona che rispettano Ma sempre nei limiti Del Un cazzo di essere umano Capito? Bravo C'è quel Io capisco il discorso Sennò chi viene in fiera Che compra il biglietto Della fiera Arriva da te E quindi Pretende qualsiasi cosa Perché Io ho acquistato Il biglietto della fiera Io posso fare tutto Ma non è vero No no Questo è malato Io ero al comico Vedi Mi ricordo dei casi Perché sono dei casi Un ragazzino di 15 anni Mi stava stalkerando Cioè io andavo per la fiera E lui mi seguiva Come se ero Un cazzo di Lo so Dopo un po' Mi ho fatto Stellina mia Ma mi stai stalkerando Eh ma voglio stare con te Sì ma io Non ti conosco Nel senso Sei un fan A cui dedico del tempo Che Ti Li abbraccio Mi faccio prendere Dal culo La gamba Paolo ti posso baciare Quello che vuoi Però la mia vita È la mia vita Non puoi Forzarti dentro Ok Anche perché A me è successo pure Diventare amico Con dei fan Ma non ho mai Le forzature Non ho mai Le cose che Anche perché Cioè se l'obiettivo È quello Comunque stringere Un legame amicizia Non si stringe E rompendo Il cazzo Cioè è detta Proprio brutalmente Forzando la cosa Cioè se tu Ad esempio Vuoi diventare mio amico E mi chiedi Posso leccarti la pelata Come prima frase Che ti sento mai dire Cioè capisci Che è strano Comunque Una ha commentato Giustamente Giustamente Comunque un commento Che ci sta Avete avuto la fama E vi beccate i difetti Allora Sì e no Perché Allora John Lennon Che viene ammazzato Dal No Più o meno Noi abbiamo avuto Innanzitutto Una passione Perché poi Luca Veramente Io adesso Sono ripetitivo Però Anche in questo Siamo simili Perché Parliamo di una nicchia Io ero per quelli Che giocavano a LOL Tu per quelli In generale Per il mondo dei manga Degli anime Molto inicchia Poi lascia stare Che gli anime adesso In Italia Stanno iniziando A diventare un fenomeno Un po' più Per tutti Non in senso Brutto Non lo so Sì 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 Si stanno allargando Si stanno allargando Però Aveva una passione Questa passione Quasi a caso È diventato un lavoro E Abbiamo chiaramente Grazie a questo Ci siamo Professionalizzati No perché abbiamo Mentre il nostro Impegno Conoscendo nuove persone Ci siamo arricchiti Come persone noi Ma questo Non vuol dire Che Non abbiamo Piacere Essere comunque Persone Normali Che vanno al bar Io Come Fedez Non ci vorrei diventare Sono terrorizzato Che non posso stare In un ristorante In Italia È un livello Di fama Che mi spaventa Perché è una cosa Che è limitante Dopo un po' Non è più bella Sì Lì arrivi al punto Che devi cambiare paese Per poter vivere Normalmente Cioè che dici Sì io sto all'estero Vivo come una persona normale Ma se sto in Italia Non posso Però quello No io A me piace Cioè ti dico Io sono felice Che adesso non accade più Però tipo l'anno scorso Che esco di casa E È bello Non le persone Che ti salutano Che vogliono fare la foto È simpatico Certo ti dà un attimo Un po' di Soggezione Il fatto che Quando è Cos'è che mi vergogno Io tipo Li prendo E li metto In un angolo No adesso ti arrivo La mia è una storia triste In realtà Io tipo Dico dai Ma non fare così Che disturbiamo le persone Io faccio tipo così E li metto In un angolino Comunque no Non me la sto flexando Qualcuno già Mi disse No la mia è una storia triste L'avevo appena iniziata Vai Io andavo all'università E quando andavo all'università A Venezia Prendevo un treno Del cavolo Per tornare a casa Ok Io stavo Vicino 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 casa del Masseo Abitavo Per farti capire E praticamente Quando tornavo a casa Capitava che Sai In stazione A Venezia Comunque Mi riconoscessero Va bene Ci poteva stare Ovviamente la foto La fai con tutti Però capitava anche Che nel treno Mi riconoscessero Magari ho appena dato un esame Ero stanco Non importa Comunque Sapevo che capitava Perché il treno Che prendevo io Allo stesso Che prendevano anche Le persone che facevano Le superiori a Venezia C'è qualcuno C'è qualcuno che mi ha In chat Che no 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 Aspetta No 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 Sono già doveva Parare O meglio Ho intuito Com'è la storia triste Ok E praticamente Mi riconoscono in treno Mi chiedono la foto Capitava più o meno Spesso La fermata In cui scendevo io Scendevo io E una signora E basta Quel giorno Scendiamo in sei Io la signora E quattro ragazzi Io avevo paura E speravo Anzi aver capito male Quello che stava per accadere Io mi incammino Verso casa Dalla stazione Mi giro E a 50 metri a me Vedo questi quattro ragazzi Che casualmente Facevano la mia stessa strada Svolto un angolo Mi giro E vedo casualmente Questi ragazzi Che fanno la mia stessa strada Giro un altro angolo Vedo casualmente Ragazzi Inizio a correre Mi giro Ma no Hai fatto male Inizio a correre Senza essere visto Dietro l'angolo Ok Per Quando loro girano l'angolo E mi vedono Più lontano Di quanto io sia Mi attaccano a correre Lì I miei dieci anni Atletica leggera Hanno fatto la differenza Fatta la differenza Kikin Ho iniziato Poi va 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 Tutte le vie secondarie Per disperderli In qualche modo Perché il loro obiettivo Non era Chiedermi la foto in treno Perché erano seduti A un metro da me Potevano chiedermi Quando scendevano In qualsiasi momento Il loro obiettivo Era vedere Dove io abitassi Però scusami Mi suggeriscono Corsa con i fan Nuovo content Cioè mi hai pensato Io registrarti Mentre scappi dei fan Con la tua Atletica leggera Fai via live Dove scappi Da chi ti dice Ti voglio leccare la pelata No allora Io sono Aspetta Io in realtà Credo di comportarmi Molto bene Cioè tipo Non dico di una foto Quasi me e nessuno Ok Ti faccio l'esempio pratico È capitato anche A Romics Tipo Che stavo scappando Per il treno Sai La parte quella lì Tutto sotto il porticato Lì prima Prima che avevo la stazione Io ho il treno In due minuti Di fan mi fermano Altri due mi fermano Dico ragazzi Stavo correndo io Perché ero in ritardo Dico ragazzi Cioè Sto in ritardo No ti prego una foto Ragazzi Se la fate Mentre corro Va bene va bene Aspetta Lo faccio anche io E mentre correvo E quello va benissimo Cioè Io sono in ritardo Mi va bene Però Mentre Mentre correvo L'hanno fatto Ovviamente Tutte un po' mosse Però L'hanno comunque Fatta la foto Quindi Io non dico Quasi mai di no Mi è capitato Di dire di no Mi è capitato Una delle cose Più cringe Ero con Giulia Lei ancora se lo ricorda Porretta Noi ci eravamo Imboscati A Luca Comics Per il limonare O per scopare No Ci stavamo Imboscati nel senso A pausa pranzo Per stare tranquillo Ce l'avamo nascosti Dietro le colonne Imboscati No nel senso negativo Se cazzi di mandorle Non le mangio più Mi stanno ammazzando Ok No no Infatti Non le mangiare così Secche perché poi Ti si incastrano i denti Un po' Ammami Qualcuno sa fare La manovra di Heimlich Guarda te Sto bene Comunque se vuoi Ti insegno come farla Se non c'è nessuno Eh io ho visto Che per Grills La fa con la sedia Fa vedere come la fai No c'è anche un altro metodo Che è proprio quello Di buttarti Per terra Con la pancia Mai visto Questa serie è un po' troppo alta Anche per me Vedi non ci arrivo No Se viene la prima serie C'è il mobiletto Il mobiletto No no Stai bene Paolo Paolo Stai tutto bene È solo per il content Qui ci facciamo i soldi Se muoio Non ti preoccupare No 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 Stavo dicendo Quindi faccio sempre le foto Sono veramente molto disponibile Io Non è che me la tiro Se dico che mi faccio le foto Non me la tiro in nessun modo Io Ma va è ovvio No no Ti capisci alla persona Lo faccio semplicemente Perché loro mi fa piacere Però quella volta Era Luca Comics con Giulia C'eravamo nascosti In un posto che È abbastanza Che non Dove non va mai nessuno a Luca Ok È un posto veramente In cui ci si può sedere Ma non c'è mai nessuno Ci stiamo baciando Mentre ci baciamo Arriva Un ragazzo Con il telefono Così Telefono Bussa sulla mia spalla E inserisci Noi stiamo così Inserisci il telefono Mi bussa Mangaka foto? Contegnerà 16 Il ragazzo Boh Sarà stato Forse anche Maggioreni Non lo so Ha fatto le superiori Non so l'età Però Dico Allora Cioè tu Ma sai cosa poteva fare? Almeno faceva ridere Metteva la lingua Poi lui dentro A sto punto O no? No Una cosa a tre E io è stato L'ultimo anno Che sono andato a Lucca Senza Cioè in una fiera Senza maschera Io ero tutte le fiere Vado mascherato E la maschera In realtà Non è solo Un Un modo Per non farti riconoscere Ma un deterrente Cioè le persone Capiscono che Nel momento di disturbarti Perché io mi ricordo Quell'anno Avevo visto Maurizio Merluzzo Mascherato In canottiera Ok Cioè Anche se aveva una maschera Però Maurizio Merluzzo C'è un milione di Sì sì Però ti spiego Anche se aveva una maschera Non ci voleva un genio Capire che era Maurizio Merluzzo Ma Maurizio Merluzzo È grossissimo Lo sai Cioè lo vedi Con la canottiera Così Puoi capire che è lui Però il fatto di avere la maschera Le persone lo capiscono Come un Non lo dobbiamo disturbare Adesso Ok Quindi È anche una sorta Di rispetto Che hanno Cioè ti vedono con la maschera Anche se ti riconoscono Comunque Non ti Evitano E io l'ho fatto Semplicemente Per un motivo molto Più umano Di quello che è A parte quella volta Con Giulia Io non riuscivo Ad arrivare allo stand Per fare il firmacopie A eccitarti No non è eccitarti A arrivare allo stand Vorrei che le persone Rispettassero gli spazi E gli altri Capito A me succede Il 90% delle volte Che le persone Rispettano il tuo spazio Sì 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 Ok Scusa non posso Stellina È fortissimo Io non lo dico mai Questo è il disco Io non dico mai di no È quello il mio problema Se sto correndo Scusa non posso Stellina Per me è come Dire la madonna No io Se sto correndo Dico Ok Corri insieme a me E falla Però non posso Smettere di correre Io questo dico Ok Io faccio così Continuo a correre Però Qual è il problema Che I bodyguard Tra virgolette Sono solo Dentro lo stand Cioè non sono i miei bodyguard Personali Ah Ok Ok Quindi quando io entro Sono salvo Tra virgolette Quando sono fuori È un problema E qual è il discorso Che se io devo andare Dallo stand Tipo nella pausa pranzo Un'ora Al bagno Non riuscendo Ad andare al bagno In un'ora Neanche a mangiare Figuriamoci Quello lo togliamo Però neanche riuscire Ad andare al bagno In un'ora Lì arriva il problema Capito Invece io al bagno Mi diverto un sacco Bro Mi sono successe Le storie incredibili Anche a me Anche a Cioè La fila di fan Sul cesso È terribile Però Io piscio Proprio Nelle cose Comuni No Come si chiamole Eh anch'io Anch'io No vabbè C'è un cazzo enorme Guarda Non te lo fotografo Per rispetto Ma lo vorrei troppo Nella galleria Per la tua curiosità C'è scritto Se riesci a leggere qui Ti sei avvicinato troppo No io non sono così Io non riesco a esternare Ste cose A me Da fastidio Quando tipo Vado al bagno E magari mi vedono entrare E aspettano fuori la porta Che esco Per stringermi la mano Mi fa un po' schifo Ah Io Cioè Se hai lavato la mano Bastardo Io no Sono appena uscito No Io Allora A parte che mi lavo le mani con la pipì Non so dove hai fatto È comodissimo Perché Che fai due cose in una Pisci e lavi È broken È broken Mi piace Jack Nicholson Posso finire a raccontare la storia? Scusami E piccolo appunto Luca E abbiamo perso tutto Tutta la La signora rigida che avevamo Secondo che questo è l'ultima puntata che facciamo insieme Sembra che ci vediamo appunti A tratti Non è che ci odiamo Che ci vogliamo bene Solo in una coppia si litiga L'amore non è bello Solo nel litigarello Hai salvato tutto con questa frase Hai visto Vai e scusami per quello che ho detto No Non ti preoccupare Non ti preoccupare E praticamente ci stavamo baciando E lui è entrato in mezzo Insomma Ho iniziato a mettere la maschera Perché non riuscivo a andare al bagno E Ma quelli siamo alla lingua Scusami Dove siamo tornati? No 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 Adesso vado avanti Vado alla storia del corriere Che dopo ho dovuto cambiare casa Ok corriere siamo Ok Arriva sto simpatico ragazzo E faceva il corriere Ok Mi suona E c'era un pacco molto pesante E mi dice che lo dovevo andare giù a prendere Perché dovevo firmare Io scendo a prendere il pacco Lui mi guarda così con il pacco in mano E fa Mangaka Io ciao ciao È tutto un po' È un pigiama È un po' sfatto C'ho la consegna Ti avevo distrutto Facciamo la foto Sì 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 Va bene Facciamo la foto E Il giorno dopo Io ho ordinato tante cose da Amazon Sai Oppure te penso Arrivano tante cose Tante pacche Arriva lui Sento la voce dal campanello Fa scendi di firmare Io sì sì Arrivo Scendo E c'era il suo fratello anche Me lo presenta Fa no Mio fratellino è un tuo grande fan Ti prego Ma Sì ho visto che oggi Avevo la consegna qua da te In spedizione Allora ho portato anche il mio fratello Ho visto che C'evo il tuo indirizzo in spedizione Io Ok Grande Ho fatto la foto con il fratellino Settimana successiva Capita che c'evo Un altro pacco Sento la voce Come si chiamava lui? Non lo dico per privacy Non il cognome Il nome Vabbè non dire nulla vai Non lo dico Non lo dico Vai Fabio 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 Per avere un nome nella storia vai Ok Fabio Fabio ha portato il suo fratello Josef Ok E ha iniziato anche a portare il suo amico Yasin Tanti suoi amici insomma Non ero italiano Non ero italiano Fabio Frequentava amici non italiani Yasin Sono nomi inventati Non sono nomi veri Mi piaceva l'idea che C'era il suo amico Paolo Vabbè Nome così Ok E quel giorno appunto Però mi ha esplorato la storia scusa Cioè questa cosa di noi mi ha fatto esplorare Non fa più ridere adesso Cioè non doveva farvi ridere Perché non sono italiani? No Paolo Allora Ok Perché Fabio non fa ridere Perché lui una settimana dopo è arrivato Sono sceso E non c'era lui Ma c'era Anziché c'era lui Sì Ma anche i suoi amici Aveva portato Era lui con due suoi amici Quindi erano in tre Da accogliervi con il pacco Perché anche i suoi amici Mi seguivano Volevano fare la foto con me Il problema qual era Che nel pacco Se hai nelle spedizioni Non lo faccio più Un tempo lo facevo Tu metti anche il tuo numero Quindi lui voleva che diventassimo amici Che uscissimo insieme Per forza a quel punto È il tuo numero Ti posso chiamare ogni tanto Ma questo è il tuo numero Ti posso chiamare? Mamma mia malatissimo Io ho detto no Configurazione di Google Home Non ancora eseguita Eh vero Scarica l'app Google Home Sul telefono o tablet Non sono avvelenato Scusate E che poi ho dovuto cambiare casa Tutto qua Me ne sono andato Perché non è Ma forse ti sto facendo ricordare Molte cose che ti hanno fatto arrabbiare No in realtà no Questa non mi hai fatto arrabbiare È semplicemente un Un qualcosa in cui Quella volta anche ho detto Sì alla foto Che tra l'altro foto orribile Io in pigiama Poi con il pacco in mano Le facevo le foto Mi mettavo al pacco Io Cioè comunque Capito Di mattina Così Io Per dirti che Ho sempre detto di sì A tutti i miei Ai miei fan Sempre ho detto di sì Sempre Perché secondo me Comunque è sempre una cosa bella Anch'io Tipo se vedessi un mio Idolo Vorrei poter Magari scambiare Tu idolo Ne ho più di uno Non dire me Perché mi metto a piangere Vabbè Questo Questo diciamo Che ci idolatriamo a vicenda Paolo Sai che mi chiamo Paolo Idolo Su Twitch Lo so Lo so Mi ero scolato La password Di Paolo Cannone Su Twitch Ero piccolo Nessuno mi seguiva Ho smesso di streamare Allora ho cambiato account Questo è molto triste Però Paolo Noi non possiamo dirci Comunque sarebbe un po' Come fanno i cani Capito Non siamo Il cuo a vicenda Esatto Meglio non farlo Tipo E schiaccia Sai bene Quel to Top Top Domina chi c'è su YouTube È Giuppi TV Ero piccolo Ero piccolo